Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Uazzare! Questo è! Meri! Mi sorghengator! Sistono, screirezione! Mi rispono, mi rispono. Mi screire di di tutto! Mi rispono! Sistono, screirezione che eccetera! E ragazzi? Quattro Allora Vi è stato Allora Allora Non è la cosa Sa Eh... Sì La scuola Ma notte Con il tempo Cus No Cus 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 No Occi no naka baveteるから 全ギャングにうーん まあいいじゃないか何本の方がいい ああああああ 1601回ではとするものがいいなぜ まただ8日 oi 多い とスターだよだよ だよどうやらねああああああああああ あれさあただ8日よやすいませんこっち 当たりましたねキャンプしたらとかだなぁ だっよねそうですしんぷらうすんねなっせる と思うぞ どうしてくれんの日 リーアプログラルが俺 プロプロともなぁ だからありますかああああああああああ あればきゅるなぁそきょ7番ですか138です 238わざとか138138分かりまして38 138ですね あざとかやわざとじゃなくて 急いでたらたまたま 急いでたん じょうにいいねー 好きすぎる それを押しげもなく披露してくれんのが やばい うち女の子は正直つぶぞろいなんで っていう時の ん 自信がすごく でジョニーのチャックシーンを聞かせてくれんのもすごい 腹割ってるわ えっ Ufff Wattowa Ufff Bara Bara Noi sono uno da! Uno è un paio ti prende! Dotto? Dona la la? Non mi piace un piano a chiudere il piano. Un piano a chiudere. I si seduti. Il piano a chiudere. chi è? è stato un uomo non è stato un uomo non è stato un uomo non è stato un uomo Il basso è flippo! No, the Zendoro road the bus is flipped. Richard you turn on me here I swear to God. Richard you turn on me here I swear to fucking God. Keep them all huddled. You broke my fucking leg. One of them is missing. One of them is missing. All of you I want you on your hands and knees and in line. You got any food? You got any food? I need food. Shut the fuck up. This is not the time. Hands and knees. Hands and knees now. I need food. I'm hungry. I'm going to start swinging. I'm going to start swinging. Everyone jump. Hands and knees. Bitch. 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 You're shackled you idiots. You're shackled. Oh, I'm shackled. Do what Pistone's doing. Be smart then. Get in the fucking car, boy. Get the fuck in. Get the fuck in. Get the fuck in. Now. Take this off. I'm picking him up. I'm picking him up now. I'm at the bus. I'm shackled. Let me get on shackled. Get on shackled. Get on shackled. 街中とか行ったりしたんかな? うん。あのね.全部死んでた。 街中の毛布の島取られてないですか? 嘘。何色? オレンジ? あらー。 えーーー。ナイスー! じゃあもう捨てたんだね。街は。 捨てたせずあるね。 にがあって。 c'è mi chanato quando ho chanato l'arba fai hoctah un parma 2,000万 1,000万 un poigno e harbi oi ma ota gai ne un'accia di aruっていうかこういうやり取りあったしないものですかねそれたら何 わかりましたぐらい2000は別に混ぜいう意味だんで Sì Grazie a tutti. 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 oi ma so io paragoni e chiesto oi 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 ma 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 E' Perchè E' 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 E'